È indubbio che quando purtroppo si è in questa posizione di classifica bisogna guardare le cose positive e ovviamente lavorare su quello che di negativo c'è stato e c'è, perché ci sono ancora cose negative e perché è ovvio che se noi stessimo lì a vedere la classifica sarebbe un grosso problema anche se ovviamente bisogna guardarla, bisogna cercare di tirarsi fuori da queste posizioni di classifica domani dopo la prestazione di mercoledì, che comunque ovviamente anche mercoledì ci sono state delle cose magari negative e su cui bisogna lavorare, però all'interno dei 95 minuti è stata una prestazione positiva col fatto che veniamo da situazioni dove facciamo bene ai primi tempi o mezz'ora e poi magari il secondo tempo si cala soprattutto magari quando si va in vantaggio, mentre mercoledì a Figline è stata una prestazione importante dove ovviamente è mancato il gol e su questo un allenatore deve portare i giocatori nelle condizioni di presentarsi nelle situazioni migliori per poter far gol poi purtroppo sono i giocatori che decidono, decidono con la loro qualità, con le loro giocate e questo è fondamentale, noi abbiamo i giocatori che possono farlo quindi la partita sta preparata come Foligno, come Trestina ovviamente saremo qui domani a fare la partita perché è giusto così, perché siamo il grosseto e dobbiamo dimostrare di voler vincere la partita perché noi possiamo dire che il grosseto sulla carta è più forte, la rosa è più forte e può essere, però alla fine è sempre il campo che lo dimostra Sicuramente andare a fare, adesso noi purtroppo non possiamo pensare alla partita con il Gavorrano dobbiamo pensare a domenica perché è una partita forse decisiva anche dal punto di vista soprattutto per dimostrare che stiamo diventando squadra quindi da quel punto di vista lì non possiamo pensare al futuro dobbiamo guardare partita per partita, dimostrare partita per partita e provare a vincere la partita di domenica poi andremo a Gavorrano, proveremo a vincere quella di Gavorrano però purtroppo ci sono gli avversari tutti col cambio di allenatore si pensava Trestina, Figline, sei punti purtroppo ci sono gli avversari, non è facile se la società ha deciso di cambiare vuol dire che qualche problema c'è come ripeto è un modo di giocare diverso non so se è giusto o sbagliato come ho già detto so solo che i ragazzi si stanno applicando stanno facendo, stanno provando a fare quello che gli chiedo e quindi già quello è importante poi ovvio servono i risultati immediati quindi anche il mio lavoro purtroppo non può essere visto a lungo termine ma a breve e medio quindi da quel punto di vista lì bisogna accelerare bisogna accelerare i miglioramenti bisogna accelerare il fatto di diventare squadra e sicuramente già, io parlo sempre nell'arco della partita perché purtroppo non possiamo pensare di dominare 45 minuti vincere 2-0 tipo Livorno e poi prendere 5 gol al secondo tempo non possiamo pensare di vincere col Foligno 1-0 in casa si rientra in campo e si perde 2-1 su due disattenzioni nostre non sono stati bravi gli avversari, sono stati due disattenzioni nostre noi purtroppo quando facciamo la partita dobbiamo essere bravi a concedere il meno possibile occasione agli avversari sbagliando il meno possibile quindi da quel punto di vista lì come ripeto ai ragazzi che possono essere over, under la crescita deve essere immediata nel breve tempo perché se no vuol dire che in questo momento vuol dire che non siamo adatti per lavorare per i piani alti ma giustamente perché adesso se siamo nei play-out dobbiamo lavorare da squadra umile da squadra che può vincere le partite 1-0 da squadra che deve lottare su ogni pallone che deve mettere il carattere, deve mettere il cuore e fare uscire poi le qualità e penso che in parte mercoledì no, per parte della partita parecchi minuti della partita l'abbiamo fatto bene a Fildine ovviamente c'è mancato il gol ovviamente non possiamo pensare di non concedere niente agli avversari soprattutto quando fai la partita e mi allaccio alla domanda alla prima domanda Fossente e Volcano sicuramente sono due centrali due difensori puri ok? mentre Cretella è un difensore che comunque ha giocato spesso anche nell'arco della sua carriera in mezzo al campo Frosali comunque ha sempre giocato in una difesa 3 oppure anche da esterno sinistro quindi sicuramente sono due giocatori che mercoledì dal mio punto di vista hanno fatto bene ma Isuf ovviamente è un giocatore con una carriera importante giocatore importante ho parlato con lui e per come in questo momento stanno giocando stiamo giocando col fatto che Colfoglino lo fece entrare nei due centrocampisti davanti a difesa non si sente con quelle caratteristiche di poter giocare lì quindi Colfoglini è entrato più avanti e sicuramente ha fatto decisamente bene comunque Isuf è stato capitano del Prato un giocatore importante da capire col proseguo del campionato le sue caratteristiche quanto ci possano essere utili in quel ruolo in quel da trequartista dove magari io come ho già detto anche lui prediligo magari più un giocatore di qualità Edo deve restare tranquillo è ovvio che l'infortunio che è stato è stato fermo un mese l'ha un po' condizionato anche perché ci doveva essere il fatto di accelerare il suo rientro in campo quindi da quel punto di vista lì deve stare sereno deve stare tranquillo sa che è alle spalle dei giocatori che possono metterlo nelle condizioni di farlo calciare in porta di far gol deve perché anche a trent'anni si possono migliorare i movimenti soprattutto in base a quello che ti chiede l'allenatore e quindi si sta lavorando anche sui movimenti dove magari per venire in conto giocare con la squadra per attaccare la profondità è ovvio che Edo è un giocatore dove bisogna mettere in condizioni di guardare la porta io non mi piace farlo giocare spalle alla porta a trenta metri dalla porta perché non va a sfruttare le sue caratteristiche però è una è anche può essere anche in situazione dove un giocatore può migliorare quindi da quel punto di vista lì ha dato totale disponibilità è un giocatore che poi non si risparmia neanche l'allenamento quindi sono molto contento come ho ripetuto già in passato le conferenze precedenti devo cercare di mettere nelle condizioni i giocatori di giocare con le proprie qualità le proprie caratteristiche ok quindi stanno dando ampia disponibilità in base a quello che gli chiedo ovviamente siamo una squadra che se gioca con tre giocatori dietro Marzierli è una squadra che comunque tende a essere offensiva quindi ripeto ci vuole equilibrio anche in quello soprattutto perché se ci mettiamo qua a dieci giocatori a giocare contro quattro difensori due centrocampisti e i sei si muovono bene gol non lo fanno mai dieci ok quindi dobbiamo essere bravi ed equilibrati in questo forti nell'uno contro uno aiutarci con la parola che è una cosa che stanno pian piano mettendo dentro perché glielo chiedo e quindi da quel punto di vista lì è vero è un brodino abbiamo fatto un punto in due partite dove magari sulla carta si poteva pensare che potrebbero essere partite dove si poteva farsi punti ed era fattibile ok però purtroppo non li abbiamo fatti purtroppo domenica sera è vero ero distrutto perché secondo me abbiamo fatto un buon primo tempo ma in vantaggio una zero e si sono riproposti sono venuti fuori ancora i problemi di prima quindi vuol dire che il modo il modo di giocare sicuramente soprattutto la prima non era cambiato più di tanto anche se c'è stato un po' più di equilibrio e sono venuti due gol non da palla presa alle spalle ma da errori individuali e quindi da quel punto di vista lì penso che dobbiamo dobbiamo essere bravi purtroppo quando c'è un risultato negativo se anche l'allenatore si mette lì a essere negativo purtroppo lotteremo tutto l'anno tutto l'anno per i play out invece dobbiamo essere positivi guardare avanti cercare di essere i più sereni possibili quando soprattutto diamo la palla nei piedi perché a volte questo ci manca ancora e poi sfruttare le qualità dei giocatori che diamo davanti c'è Senigalliesi che deve star fermo fino a lunedì ok ha un piccolo problema intercostale quindi che doveva domenica doveva essere in campo nella formazione iniziale poi nel riscaldamento si è dovuto fermare e quindi rispetto ai soliti manca solo lui grazie a tutti grazie a tutti